Scusate Io ti ringrazio Cosa vuoi? Chi sei? Io sono quella che restituirà la tavoletta che tu hai rubato Perché hai rubato la tavoletta? Per venderla Gli ateniesi pagherebbero molte dracme per questa Come sei entrato nell'accampamento? Gli spartani non sospettano mai dei compagni Sono troppo presi a guardare male gli altri Malacca Dammela Non me ne vado senza Questa guerra non avrà vincitori Ma esistono le opportunità Forse possiamo trovare un accordo? E che tipo di fatto sarebbe? Ecco Tieni la tavoletta E questo è per il disturbo Nessuno sa chi sono Non serve versare altro sangue Vai! Non voglio rivedere mai più la tua faccia Devo riportare la tavoletta al comandante E questo è per la tua faccia Oh Controllate il campo Nessuno spartano deve mancare all'appello Hai per caso trovato il responsabile? Non ci proverà più Anche perché senza testa sarebbe difficile Non devi più preoccuparti di lui È stato un duro scontro Ma ho avuto la meglio Ha pagato con il sangue Sì, ma... Hai trovato la tavoletta? Sì, certo Bene Vi a ti puto pe... Grazie a tutti